ciao sono gion battista questo è social light salve a tutti e benvenuti in questa nuova puntata di social light luce nella società ebbene quest'oggi io vi lascio alla terza parte dell'esperienza di fede di nico battaglia e quindi non mi resta altro che augurarvi una buona visione tra fidati di me e io canto ancora io sento un filo conduttore lo stesso periodo e percepisco anche una rinascita quasi da un periodo particolare e ci vuoi parlare di quello che hai vissuto in sì sì come come ti ho detto io ho sempre cantato sempre e per me il canto è non solo il desiderio di esternare una passione di natura musicale o artistica ma è proprio il desiderio di condividere il messaggio del vangelo attraverso l'astre ma anche rivolgere a dio il mio canto il 4 maggio del 2018 quindi quattro anni fa mi diagnosticano un tumore un tumore purtroppo molto aggressivo che si stava sviluppando nella mia lingua quando questo medico mi ha dato la diagnosi dopo che avevo fatto diversi esami di accertamento perché avevo notato che una lesione sul bordo sinistro della mia lingua tendeva a crescere nel tempo quindi questa cosa mi ha un po allarmato e ho fatto vari esami questo è il mese di aprile poi a maggio mi hanno dato la diagnosi il medico il primo medico che ho consultato perché poi ne ho consultati diversi però il primo è stato molto bravo e ha curato nella sua diagnosi e lui mi ha detto che non c'erano tante alternative o rimedi alternativi alla risoluzione di un problema così grave lui mi ha detto l'unica strada è la chirurgia quindi noi dobbiamo asportare questo tumore questo significa che gran parte della tua lingua deve essere tolta parte del tuo collo intervento sarà molto invasivo e potrebbe dopo tutto causare un'invalidità più o meno grave ha detto questo dipenderà da come il tuo corpo reagirà da come recupererai la capacità di parlare di alimentarti però se già tutto questo sembrava comunque compromesso io mi sono detto dentro di me mentre lui parlava ma quindi cantare è proprio da escludere dopo un'operazione di questo genere lui poi mi aveva già presentato la possibilità abbastanza concreta che avrei dovuto fare anche tutto un percorso di radio e chemioterapia dopo l'intervento quindi una radioterapia fatta nella zona del viso su un corpo già debilitato dall'intervento insomma si presentava come un quadro abbastanza complesso e quindi le possibilità che io avrei potuto riprendere a cantare qualora tutto fosse andato per il meglio erano davvero bassissime se non inesistenti e quindi il buio arriva il buio nella mia casa giamba e lì lì la fede viene messa molto alla prova molto alla prova e ho pensato in quel momento mentre il medico mi parlava a tanti versi della bibbia ma uno in particolar modo pensavo alle parole di gesù quando lui ha detto il ladro non viene se non per rubare uccidere e distruggere ma io sono venuto per portare vita e portarne in abbondanza è scritto nel vangelo di giovanni capitolo 10 verso 10 Gesù in queste parole sottolinea in modo sintetico e molto efficace quella che è la missione del nemico perché c'è un nemico invisibile ma c'è e Gesù lo definisce un ladro credo che sia la migliore definizione mai data perché questo nemico è un ladro sa fare solo questo lo fa molto bene ma può fare solo questo ma quando lo fa è devastante lui ruba, ammazza e distrugge proprio come il cancro come un tumore che ruba ammazza e distrugge e nel mio caso questo ladro voleva rubare beh ha rubato parte del mio corpo che non tornerà più indietro ma soprattutto voleva rubarmi la gioia la pace voleva rubarmi la speranza il futuro voleva rubarmi i sogni voleva rubarmi la voce voleva rubarmi il canto voleva rubarmi il servizio tutto tutto quando dico tutto è tutto perché situazioni così gravi possono compromettere anche l'armonia familiare hanno compromesso e io ero certo che avrebbero compromesso anche la dimensione della sfera economica certo l'aspetto anche no economico familiare relazionale con mia moglie e insomma chiaramente di salute certo ecco un dardo infuocato per utilizzare un'immagine biblica che non solo ti colpisce ma brucia ogni cosa per distruggere ogni cosa però io mi sono aggrappato alle parole di Gesù quando continua questo verso dicendo io sono venuto per portare vita è portarlo in abbondanza ecco se la missione del nemico è rubare uccidere e distruggere la missione di Gesù è portare vita è portarlo in abbondanza è chiaro che la missione di Gesù è orientata alla vita eterna Gesù è venuto sulla terra non solo per fare miracoli i miracoli hanno semplicemente accompagnato la missione di Gesù la missione di Gesù è stata quella di portare vita è morto sulla croce è risorto dopo tre giorni per portare vita eterna e io mi sono aggrappato mi sono aggrappato a Gesù in quanto portatore di vita colui che soffia vita sopra la morte e quindi ho gridato ho gridato Signore questa parola Signore era un grido rivolto alla vita e sentivo che dovevo aggrapparmi alla vita era l'unico modo per non farmi incatenare dalla paura perché queste parole tumore carcinoma chemio spaventano non c'è nulla da fare spaventano anche l'uomo con la fede più irremovibile perché siamo uomini e quindi come gestire queste parole come gestire la paura come gestire il buio se non con la luce se non con la pace che proviene solo da Cristo Gesù e da lì è iniziato un percorso molto lungo per me e per mia moglie dico anche per mia moglie perché è un cammino che abbiamo fatto in due ovviamente certo e il suo dolore è un dolore altrettanto acuto perché non è semplice stare vicino a chi vive situazioni così complesse vivi il senso di impotenza vivi la sofferenza di vedere una persona atteccare a che ami così fragile così debilitata dalla malattia eccetera eccetera quindi insieme abbiamo vissuto questo viaggio di dolore ma anche di gloria perché nel deserto abbiamo gustato tante volte l'intervento di Dio che ha rinfrescato le nostre labbra secche e questo viaggio ci ha portati a realizzare quanto sia importante anche nella tempesta più tremenda fidarci di Dio da qui nasce questo titolo io avevo tante domande diciamo ma nel mio cuore una su tutte signore perché esatto canto di te celebro il tuo nome con la mia bocca da quando sono un ragazzo proprio lì no già combattere un tumore è tremendo prescindere sì ma poi lì comprendi e dicevo signore perché stai permettendo che mi strappino la lingua io come farò a questa domanda non è arrivata una risposta ma credo a distanza di 4 anni che la risposta si stia gradualmente formando ma al tempo io non ho avuto una rivelazione del perché stessi vivendo quella situazione situazione e quindi ho compreso una cosa importante che voglio condividere da uomo di fede seppur ero arrabbiato per quello che stavo vivendo non con Dio in generale con la situazione con questo larro però da uomo di fede non ho mai messo in dubbio che Dio è perfetto in tutte le sue vie perché Lui è la perfezione e tutto quello che fa Lui è perfetto e quindi io dovevo sforzarmi di vedere la sua perfezione anche in una tempesta così tremenda che addirittura parla di morte come è possibile vedere la perfezione davanti alla morte beh questo parla anche della croce no? sì l'opera di Cristo no? quella croce parlava di sconfitta parlava di umiliazione parlava di morte e invece poi dopo la resurrezione quella croce è diventato simbolo di vittoria simbolo di gloria simbolo di legalità simbolo di salvezza e questo è come opera Dio quindi certo che si può trovare e vedere la perfezione di Dio anche davanti alla morte e quindi non mettendo in dubbio la sua perfezione ho messo in dubbio quello che stavo vivendo io da uomo imperfetto e ho messo in dubbio tutte le domande che ho rivolto a Dio e così mi sono messo alla ricerca delle domande della domanda giusta e gli ho compreso quanto è importante cercare le giuste domande ancora prima di cercare le giuste risposte e la domanda a cui sono arrivato che ho posto al Signore è stata Signore cosa vuoi che io faccia in questo tempo? Io non so cosa fare la tendenza che avevo come uomo è Signore fai tu qualcosa ma il Signore mi ha fatto comprendere che io dovevo realizzare che aspettava a me fare qualcosa che Dio era lì Dio è sempre stato lì Lui regna siete sul trono è vicino a noi è nostro Dio è nostro re è nostro padre io dovevo fare qualcosa e così ho detto Signore cosa vuoi che io faccia allora? Dimmi cosa devo fare perché non so dove andare sai quando sei nel deserto non ci sono indicazioni stradali non ci sono strade cartelli indicatori non sai dove andare e a questa domanda il Signore ha risposto in modo sorprendente attraverso vari input che ho ricevuto da tante cose persone versi riflessioni personali tutti questi input riconducevano ad un unico grande incoraggiamento la parola di Gesù verso di me e verso mia moglie è stata fidati di me fidati di me letteralmente sei aggrappato a questa promessa possiamo dirla a questo invito ecco invito è stato un invito perché aspettava me scegliere di fidarmi di Lui e questa è l'opera straordinaria di Dio Dio ci sfida sempre perché tiene alla nostra crescita lui potrebbe fare tutto da solo e invece no lui ci sfida a fare qualcosa che ci permette di andare incontro a Lui Giacomo scrive avvicinatevi a Dio ed Egli si avvicinerà a voi Giacomo 4 verso 8 c'è un'azione da compiere io dovevo fidarmi di Dio l'ho sempre fatto nella mia vita ma questa volta doveva essere una fiducia totale ed è accaduto questo che quando io ho deciso e mia moglie ha deciso quando abbiamo deciso di fidarci di Dio abbiamo sperimentato dentro di noi una pace soprannaturale e abbiamo iniziato a gustare il riposo di Dio perché davanti a questa situazione si è molto agitati e la conseguenza naturale anche per gli uomini di fede è che quando sei agitato anche la tua fede è agitata certo e una fede agitata sembra quasi essere un controsenso certo invece la fede deve avere come prima caratteristica la pace perché solo se ci fidiamo davvero di Dio possiamo sperimentare quella pace e la nostra fede diventa efficace e così il nostro viaggio verso l'operazione è iniziato con questa parola fidati di me ho voluto dare il titolo a questo libro proprio pensando a questa parola perché è una parola che ci ha accompagnato per tutto il viaggio una parola che ci accompagna ancora oggi io credo che è una parola che ci accompagnerà per sempre e che accompagna a tutti noi perché continuamente il Signore ci sprona a fidarci di Lui al di là delle montagne tra le vallie e le campagne vedo l'ombra dei giganti sono grandi al di là dei miei pensieri tra il domani oggi e ieri dei nemici sono sorti sono forti a E combatto ancora con la sua parola Al di là delle emozioni, ora è il tempo delle azioni Senza farsi più domande, Dio è più grande Al di là delle paure, delle mie disavventure Guardo in faccia anche la morte, Dio è più forte Non ho paura, io vinco ora Non ho paura, io vinco ancora Non ho paura, io vinco ancora Non ho paura, io vinco ancora Con Cristo sono sempre più che vincitore Il capo degli eserciti è qui con me Non ho paura, io canto ora Non ho paura, io vinco ancora Non ho paura, io vinco ancora Non ho paura, io vinco ancora Io vinco ancora E io vinco ancora Io canto ancora È davvero incredibile E io ho una domanda che ti volevo fare Questa anche a livello personale La pandemia ci ha Tolto anche una parte Della libertà Cioè ci ha portato a riscoprire Anche una dimensione nostra Anche a livello forse Spirituale, interna Un fermarci dalla routine quotidiana Per cercare di scoprire Una nuova identità Personale Di fede Ma anche familiare Tu come hai vissuto Questo periodo di pandemia Che è stato particolare Per molte persone Certamente è stato un periodo tremendo Per tutti Pensando soprattutto a chi Ha sofferto A chi ha perso dei cari È stato un tempo difficile Per l'umanità intera Una cosa unica Nella storia A livello personale Devo dire che Io non ho avuto Problemi legati al covid Quindi Grazie a Dio Questo almeno L'ho scampata In quel periodo Perché insomma Già venivo da un periodo tremendo Dal punto di vista della salute Però a livello personale Dicevo Non ho vissuto Un grande disagio Perché in realtà Il mio lockdown Era iniziato Già un anno prima Io sono stato un anno a casa Completamente fermo Da ogni attività Curando il mio corpo Nel silenzio Del mio percorso di riabilitazione Quindi Non mi ha preso alla sprovvista Non c'è stata un'interruzione Immediata Della mia vita Perché l'avevo già interrotta Un anno prima Quindi Non mi ha spaventato Fermarmi È come se fossi già In qualche modo Molto abituato È stato però Un fermarmi Diverso Perché ha coinvolto tutti Certo Non ha coinvolto solo me Quindi Nel mio primo lockdown Ero fermo io Ma C'era ancora Almeno Nel mio entourage Delle mie amicizie Della mia famiglia C'era ancora un movimento Intorno Il secondo Il mio secondo È stato Diverso Perché Ci siamo fermati tutti Però Ripeto A livello personale Non ho vissuto Un enorme disagio Perché Ero già un po' allenato Diciamo A questo Fermarmi E quella pausa È stata una pausa dolorosa Ma anche molto costruttiva Beh La maggior parte dei brani Come ti ho detto Li ho scritti in quella pausa Quindi Anche lì è stato molto produttivo E Un'altra domanda Che volevo farti è Attraverso Le nostre esperienze Che facciamo Nell'arco comunque Della nostra vita Conosciamo Una parte Di Dio E la facciamo nostra E la teniamo Cara nel nostro cuore E costruisce Ancora di più Le immagini Di Dio Attraverso L'esperienza Profonda Che hai vissuto Recentemente Da cui sono nati Appunto Il tuo libro Filtri di me E il tuo album Io Canto ancora Senti che Si è cambiato Il tuo modo Di Vedere Dio Che sia Hai conosciuto Una parte di Dio Che prima magari Non conoscevi E cambiato qualcosa E è rimasto Ben o male uguale Senza dubbio Questa esperienza Mi ha portato Ad andare Un po' più In profondità Nel mio percorso Di fede Nella mia Relazione Con Dio Ma anche A comprendere Delle cose Più in profondità Di me stesso Una cosa Ho compreso Con chiarezza Dopo Questo percorso A proposito Del miracolo Io credo Fermamente Come ho già detto Che Dio Dio è un Dio Di miracoli E Dio Li compie Ancora E dobbiamo credere E affidarci a Lui E confidare in Lui Che Lui può Ma ho realizzato In questo viaggio Che alcune volte Il miracolo Non arriva Nell'immediato Quando lo chiediamo Quella volta Dobbiamo passare Attraverso Un deserto E io ho realizzato Come scrivo Al termine Di questo libro Che il miracolo Inizia Quando incomincia A fidarti di Dio Ecco Ecco il vero Miracolo Che io ho gustato È vero Dopo io Ho visto I referti E dagli esami Ho visto E ho letto Assenza di malattia Ho ripreso Accantare Ho gustato Il mio miracolo Però in realtà Il mio miracolo È iniziato Quando ho detto Sì signore Io mi fido di te E in quel processo Ecco Questo aspetto Anche Di come vivere La risposta Di Dio Il miracolo Di Dio È un po' Cambiato E O meglio Si è ampliato Sono andato Un po' più in profondità E Dio mi ha permesso Di Coglierlo E un'altra cosa Che ho vissuto In modo molto intenso È che in questo processo Io ho visto Dio operare In modo così profondo Dentro di me Che io stesso Ho vissuto Un processo Di trasformazione Che mi ha portato A A A crescere Come uomo Come marito Come figlio di Dio Come servitore Come Musicista Prendere più Consapevolezza Del valore Della vita Di quanto sia Importante Non arrendersi Anche per Benedire gli altri Di quanto sia Importante Vedere Nei nostri Sforzi Un atto Di altruismo Di quanto Sia importante Vedere in Dio Non solo Colui che dispensa Miracoli Ma un padre Da amare Perché è nostro padre Punto Cose che vivevo Anche prima Ma Ora le vivo In modo più intenso No Ho realizzato Certe cose In modo più intenso E quindi Dio Come scritto anche in Geremia No Nel libro di Geremia Dio trasforma Il lutto in danza Il dolore in gioia Io ho vissuto Questo processo Di trasformazione Ma ciò che più Mi ha sconvolto È realizzare Che questo processo Di trasformazione L'ho vissuto Prima di tutto io Penso a Gesù No Al suo primo miracolo Quando trasforma L'acqua in vino Quello che mi sorprende Di questo passaggio Del Vangelo È Quando L'uomo che assaggerà Il vino Dirà Ma come è possibile Che questo vino Che state dando ora Sia addirittura Migliore Del vino Che abbiamo bevuto All'inizio della festa Ed è straordinario Realizzare Che Gesù Quando trasforma Trasforma Per rendere Le cose migliori E io Mi sono sentito Trasformato Da Lui E in un certo senso Migliorato Perfezionato Modellato Come Sempre in Geremia Viene disegnato L'immagine di Dio Come un artigiano Che modella Un pezzo di argilla No E lo trasforma In un vaso Di valore Mi sono sentito così Il deserto Mi ha forgiato Il Signore Mi ha lavorato Però io Io ho fatto Quel passo Di fede Mi sono fidato Di Lui Sono andato Verso di Lui E in qualche modo Sono andato a prendere Quel miracolo Che il Signore Aveva preparato Ma io l'ho dovuto Prendere Come quella donna Dal flusso di sangue Che decide Di toccare Il lembo Della veste Di Gesù E quando fa Questo Questo Quando agisce In questo modo E fa questo gesto Lei riceve Quella guarigione Che era già pronta Per lei Doveva però Solo Fare un atto Di fede Un atto Di fiducia Sì Attraverso le tue parole Davvero io Riesco proprio A toccare Davvero una rinascita E quindi Sì Davvero Toccante Nico Io starei Tanto tempo A parlare con te Però giustamente Comprendo che Ti devo lasciare La tua vita Quindi Poi dobbiamo Concludere Questa chiacchierata Che Onestamente Mi ha fatto del bene E ti ringrazio Anche perché Ti sei aperto Proprio a 360 gradi E ci hai Praticamente Offerto il tuo cuore Io l'ho percepito E sono sicuro Che l'hanno percepito Anche Chi ci ha ascoltato E io per concludere Vorrei però Chiederti Come ultima domanda E poi Ti prometto Che ti lascio Davvero libero Ci hai raccontato Tantissime esperienze Dal primo incontro Alla nuova rinascita Costellata In mezzo Da mille esperienze Alla luce Proprio di tutte Queste esperienze Qual è il messaggio Che ti senti Di trasmettere Ai giovani Che ascoltano Questo podcast Ma voglio Riprendere Un pensiero Un pensiero Una riflessione Che credo sia Il cuore Del messaggio Che in qualche modo Abbiamo Condiviso E sviscerato In questo In questo tempo Insieme E quindi Riprendo il verso Di Giacomo Avvicinatevi a Dio Ed egli si avvicinerà A voi Il mio incoraggiamento È a cercare il Signore A cercare prima Gesù Del miracolo Anche quando siamo tristi A cercare Gesù Prima della gioia Anche quando siamo Bisognosi E forse Mancanti di qualcosa A cercare prima Gesù Del Di ciò Di cui abbiamo bisogno E Quindi il mio incoraggiamento Che do a me stesso E do a quanti Ascolteranno queste parole È ad avvicinarci A Dio Perché Così facendo Egli si avvicinerà a noi Questo è un vero atto Di fiducia Nei confronti di Dio È incredibile Anche l'invito Che tu ci fai A sperimentare Anche Una dimensione Magari per chi non ha Non ha avuto L'opportunità Nella sua vita Di poter vivere Il Dio dell'impossibile Come l'hai chiamato tu E come attraverso La tua esperienza Ci hai mostrato Ed è un invito davvero Che Ne facciamo davvero tesoro E spero davvero Possa fare del bene Ai nostri ascoltatori Io Come Come ultima cosa Ricordo ancora una volta Il libro di Di Nico Battaglia Fidati di me E l'ultimo Album appunto Io canto ancora Che potete trovare Sul sito appunto Di Nico Battaglia E vi invito davvero Ad acquistarli Proprio perché Nell'album appunto Come ci hai detto C'è Sono tutti i canti Che tu hai scritto Durante Quel periodo complicato E nel libro ci sono Ancora più Tutta la storia Esatto Più in profondità Raccontata E quindi vi invito davvero Ad acquistarli E a consultare Perché sono convinto Che vi farà del bene Per il resto Io Ti ringrazio Nico Grazie a te Per essere stato con noi Per averci Per averci Condiviso La tua esperienza E per averci dato Anche l'invito Davvero Un piacere Io Ti dico davvero Con col cuore Dio ti benedica A te Anche a te E alla tua famiglia Grazie Davvero E che spero Che il tuo ministero Possa continuare ancora Alla grande Come sta già facendo Grazie Con me Io vorrei Per il resto Io vi ringrazio Per aver ascoltato Anche Quest'altro episodio E vi invito Anche a ascoltare Le ponte precedenti E quelle che verranno Sulle nostre principali Piattaforme In video Sul canale youtube Di Hop Channel Italia E anche sulle nostre Principali piattaforme audio Su Spotify Apple Podcast E Google Podcast Cercando Socialite Podcast Inoltre vi invito Anche a consultare A seguire La nostra pagina instagram In cui troverete Anticipazioni E spezzone Della puntata Che uscirà Ogni mercoledì Alle ore 20 Come sempre Quindi Vi auguro Una buona serata E grazie Per essere stati con noi E grazie E grazie E grazie E grazie E grazie